Tre norme che hanno a che fare con la vita della nostra comunità, a mio avviso molto importanti, quella sulla farmaceutica, ovvero vogliamo sburocratizzare tutte quelle funzioni amministrative che per i cittadini sono molto lente, parliamo dei danni da trasfusione per le vaccinazioni che a volte impiegano addirittura anni prima di arrivare a quei rimborsi nelle tasche dei cittadini. In secondo luogo abbiamo approvato la legge sullo sport raddoppiando, andando oltre un milione di euro per le associazioni con coperture importanti perché quest'anno le associazioni sportive per via del Covid avranno difficoltà ovviamente a reperire le risorse per mandare avanti la propria iniziativa, la propria attività, lo sport è anche sociale soprattutto a livello dilettantistico e la regione ovviamente ci mette del suo. La terza riguarda l'approvazione della norma per il premio Federico Caffè, in questo caso del collega Blasioni, un'altra norma molto importante nel riconoscere una figura straordinaria della nostra terra e nel premiare in questo caso giovani laureati in economia che si contraddistinguono e si contraddistingueranno nel corso dei propri studi. Sono tre provvedimenti che toccano i settori della vita delle persone, lo studio e la formazione, i pazienti, gli utenti, i cittadini per quanto riguarda la sanità e lo sport per quanto riguarda le nostre associazioni sportive che secondo me in qualche modo sottolineano lo sforzo e il lavoro del Partito Democratico in regione.